Allora, benvenuti, buonasera a tutti, grazie di essere in questo meraviglioso spazio di Casa Cecilia che ringraziamo, che ci concedono tutte le volte durante le nostre manifestazioni, è già la seconda volta per il Paese Festival che usiamo questo spazio, non so se te la cavi con due volte, mi sa che piace, quindi alla fine mi sa che vi dovrete abituare ad averci tra i piedi per un po'. A me fa sempre impressione vedere la fondazione qua di fianco, da una prospettiva diversa, noi siamo abituati a vederla da un altro punto di vista, vederla di qua è effettivamente un altro colpo d'occhio. Abbiamo anche cercato di fare il campanile come la Torre di Pisa per avere un po' di, così almeno, qualche brivido per le nostre presentazioni, ma benvenuti, oggi un'altra tappa del nostro Paese Festival, è stato lungo, interessante, un bellissimo fine settimana, da martedì in realtà della scorsa settimana fino a domenica, oggi abbiamo questo momento pomeridiano in cui con grandissimi amici, i relatori vogliamo affrontare un tema che noi riteniamo essere urgente, quello di come tutto quello che noi facciamo, arte, cultura e turismo, che possono essere delle carte importanti da valorizzare, da spendere per la crescita del nostro territorio, possono appunto diventare un volano di sviluppo. Lo facciamo con i relatori alla mia destra che non hanno sicuramente bisogno di presentazioni, che sono i testimoni oggi di quelli che sono appunto questi comparti che vogliamo andare ad indagare. Poi la giornata proseguirà con, abbiamo anche il moderatore della nostra giornata che è Alberto Sinigaglia, presidente della giuria del premio Pavese, che annuncerà i vincitori del premio Pavese 2022, cerimonia che si terrà nella due giorni 5-6 novembre, qui non saremo più con il giardino, quindi per novembre non ce la facciamo perché torniamo al caldo in chiesa, sempre che riusciamo a accendere il riscaldamento, è questo inverno, vediamo, vediamo, vediamo. Quindi due giorni 5-6 novembre dove ci sarà la cerimonia poi di premiazione del premio Pavese. L'ultima tappa del Pavese Festival sarà in trasferta a Branca Leone Calabro, anzi Branca Leone come ci dicono di dire gli amici appunto del paese dove Pavese è stato confinato a Cavallo tra il 34 e il 35 e andremo lì per portare un altro spettacolo del Festival e chiudere dunque questa edizione che il prossimo anno vorremmo diventasse itinerante, non lo diciamo sempre, ci piacerebbe cominciare a tornare sui luoghi pavesiani del territorio come facevamo tempo fa ma adesso con nuove consapevolezze e nuove opportunità. Io ho detto tanto, lascio una parola a Laura, presidente della Fondazione Pavese e sindaco soprattutto di Santo Stefano Belmo. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti e benvenuti a Santo Stefano Belmo. Io ringrazio innanzitutto la famiglia Baldovino per l'accoglienza perché anche i nostri ospiti vedono un nuovo luogo, un luogo fantastico e vedete anche appunto la Fondazione Pavese, la chiesa sconsacrata dei Santi Giacomo e Cristoforo in una prospettiva diversa che non siamo abituati a vedere. Questo è un luogo un po' nascosto di Santo Stefano ma una meraviglia e chiunque viene e dice è bellissimo, anche certi, tanti santo stefanesi non hanno mai visto questo luogo, un luogo veramente, veramente bello. Bene, altro giorno di Pavese Festival, abbiamo aggiunto un giorno in più, siamo reduci da quattro giorni che sono stati per noi una sfida, quattro giorni entusiasmanti, anche emozionanti perché ci siamo lanciati un po' in una sfida per noi. Un Pavese Festival, come abbiamo detto, Pavese Festival ambizioso, un Pavese Festival in una cornice diversa, di solito si svolgeva qui nella piazzetta antistante, ora si svolge nella piazza principale del nostro paese per accogliere un maggior pubblico, per consentire una maggior fruizione dei nostri spettacoli che mettono la cultura al centro, mettono Pavese al centro e dobbiamo cercare perché abbiamo il dovere di mettere a frutto l'eredità che ci ha lasciato uno dei più grandi scrittori del Novecento italiano, il nostro più famoso concittadino e quindi il Pavese Festival è un'occasione per far parlare di Pavese, per parlare di Pavese a tutto tondo e per far vedere che qui tutto parla di Pavese, quindi non solo la fondazione, il cuore, questa è una chiesa dove fu battezzato Cesare Pavese, ma anche tutto il borgo storico e anche le nostre colline. Abbiamo una rete sentieristica di 65 chilometri, i sentieri pavesiani accattastati a rete sentieristica regionale, ma all'interno abbiamo voluto realizzare un progetto, un progetto multimediale che abbraccia l'arte, la cultura, il MOM, il Multimedia Outdoor Museum, sono 5 sentieri, 5 percorsi iconici che ci faranno immergere, quindi anche i nostri turisti, camminatori potranno immergersi passeggiando, ma immergersi nella cultura, nell'arte, nella musica, nel territorio e nella tradizione. E devo dire che da sindaco mi inorgoglisce questa sera poter avere un convegno che ha un titolo così vero, un titolo così importante. Parliamo di arte, di cultura, di turismo come motore di sviluppo del territorio. È quello che deve essere, è quello che ogni amministratore ha il dovere di fare, di portare avanti e di coniugare quelli che sono veramente tre elementi fondamentali. Perché cultura, arte e turismo vanno a braccetto. Ieri ho partecipato all'assemblea di antiturismo, si è parlato di grandi numeri, si è parlato di un aumento del turismo del 40% rispetto all'anno scorso, se non sbaglio, presidente e direttore, si è parlato del 10% in più rispetto al 2019 che era stato già un anno fantastico e strepitoso per il turismo. Quindi noi a Santo Stefano Belbo abbiamo un turismo culturale, quindi dobbiamo parlare di un turismo di qualità e noi siamo qui pronti ad accogliere i turisti che verranno mettendo proprio a frutto quello che ci ha lasciato Pavese quindi avendo il dovere di migliorarci sempre di più. L'amministrazione comunale ormai da qualche anno viaggia fianco a fianco ogni giorno insieme alla Fondazione Cesare Pavese dove collaboriamo assieme in nuovi progetti per cercare di far crescere sempre di più la cultura perché la cultura e l'arte e il turismo possono essere veramente un motore di sviluppo e far bene a tutto un territorio. E quindi a maggior ragione questa sera mi inorgoglisce avere come relatori massimi esponenti dei temi di cui andremo a parlare. Abbiamo il piacere e l'onore di avere con noi Massimo Brai già ministro per i beni culturali, ora direttore editoriale dell'Enciclopedia Treccani abbiamo Patrizia Sandretto Rere Baudengo che è il massimo conoscitore dell'arte nazionale e internazionale che ha avuto la grande lungimiranza di portare l'arte internazionale nella nostra terra nel Roero principalmente però in tutto il nostro territorio. Anche una grande conoscitrice ma Roberta Ceretto ma anche un'amica perché è consigliere, abbiamo l'onore di averla come consigliere della Fondazione Pavese. Anche un grande piacere avere con noi, gli do il benvenuto a Santo Stefano Belbo auguriamo buon lavoro al direttore, neo direttore di Ente Turismo Bruno Bertero quindi noi siamo a disposizione, Santo Stefano Belbo è a completa disposizione e quindi noi siamo per collaborare e per promuovere il turismo. Non dobbiamo da questo punto di vista fare campanilismi, noi dobbiamo parlare di un territorio, quindi abbiamo un territorio fantastico che ha delle connotazioni, che ha delle peculiarità e delle caratteristiche quindi noi abbiamo voglia di essere a disposizione e di collaborare con il territorio. Mi fa un grande piacere e un onore avere tanti amici, li saluto tutti, poi ci saluteremo alla cena ma abbiamo anche massimi rappresentanti delle istituzioni, degli enti albesili li ringraziamo tantissimo per il loro sostegno e per il sostegno che ci danno in questo nostro percorso percorso di crescita che è un percorso faticoso, impegnativo ma fantastico e appassionante e chi modererà il convegno di questa sera? Il dottor Alberto Senigaglia che è il nostro presidente della giuria del premio Pavese e poi prima della cena annunceremo anche i vincitori del premio Pavese. Non voglio rubare altro tempo a questa tavola rotonda assolutamente interessante che sarà anche proprio un motivo di spunto, un motivo di crescita per noi, quindi grazie, grazie ancora, grazie a tutti per la vostra importante e preziosa partecipazione per noi e buon proseguimento. Grazie. Grazie sindaco, grazie Pierluigi. La parola subito a Roberta Ceretta. Esatto, perché sono del territorio quindi... Ah perfetto, perfetto. Bene, quindi di che cosa posso raccontare questa platea? Questa platea che obiettivamente conosce già praticamente tutto quello che... Benissimo. No. A me fa molto piacere partecipare, grazie per l'invito perché obiettivamente mi sento un topolino confronto a dei personaggi che di cultura ne conoscono e ne masticano molto più di me e soprattutto parlare di arte contemporanea insieme a Patrizia, Sandro e Torre Baudengo immagino vent'anni fa me l'avessero detto, non ci avrei creduto. No, noi siamo obiettivamente un caso atipico e è inutile che mi dilunghi nel raccontare che cosa facciamo perché molti degli ospiti lo sanno, però devo confessare che mi sorprende ancora adesso vedere quanto sia grande l'attenzione nei nostri confronti che partiamo come produttori di vino e nel caso specifico mio la maggior parte delle volte negli ultimi dieci anni mi sono ritrovata a parlare di cultura e di arte. Lo abbiamo fatto in maniera assolutamente estemporanea perché l'incontro con l'arte contemporanea è frutto proprio di tanti incontri che spesso succedono a chi produce vino è un lavoro obiettivamente meraviglioso che ti mette a contatto con tanta bellissima gente e nello specifico mio padre e mio zio sono sempre state persone, più mio padre che mio zio molto aperte al dialogo, molto curiose e che hanno sempre cercato di portare nelle proprie cantine degli intelletto e quindi delle persone che sapessero consigliare e dare delle idee abbiamo saputo cogliere delle occasioni in un periodo abbastanza tipico perché effettivamente alla fine del secolo scorso parlare di arte, parlare di cultura soprattutto proporla da parte di una cantina era qualcosa di assolutamente strano però era un'esigenza perché soprattutto le cantine sul nostro territorio sono dei luoghi che catalizzano tantissimo l'attenzione le Langhe, il Roero, il Monferrato, non dimentichiamolo che come valore aggiunto che è un po' quello che stiamo raccontando negli ultimi anni è sempre quello legato al cibo e al vino mancavano dei punti alternativi, delle prospettive diverse rispetto a quello della tavola e rispetto a quello della cantina noi abbiamo solo cercato di aggiungere dei temi, aggiungere degli argomenti e creare delle cartoline per chi veniva a visitare che potessero anche essere da stimolo per rimanere un po' di più sul nostro territorio l'arte contemporanea è stato forse il veicolo più immediato e poi ci ha appassionato noi siamo in fondo dei collezionisti di esperienze e avere a che fare con dei talenti creativi come gli artisti ci ha aperto le prospettive quindi abbiamo continuato in maniera un po' più chiara adesso in maniera un po' confusa inizialmente però è un discorso che continuiamo e ci piace e ci appassiona Si può applaudire naturalmente? Ecco, tu parlavi di cultura con molta timidezza ma la prima volta che ho sentito parlare ho sentito pronunciare il nome di Ceretto era quello di un'assessora alla cultura di Alba che era Bruno Ceretto e poi ho visto che quanto intreccio ci sia stato tra Ceretto, tra i Ceretto e la letteratura e l'arte però visto che hai nominato Patrizia Sandretto abbiamo tutti voglia di sentirla subito a lei il microfono e la parola Buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutte anch'io desidero ringraziare moltissimo il sindaco grazie per questo invito grazie alla fondazione, al suo direttore per avermi invitato qua oggi grazie a tutti i relatori e Alberto amici davvero da tanti anni molto bello, il posto è meraviglioso non ero mai stato, è davvero un posto magico come questa terra che è davvero una terra magica io lo vedo direttori di musei, collezionisti, critici, galleristi quando vengono qua si innamorano di questo territorio abbiamo davvero un territorio speciale che dobbiamo amare ma tutti noi lo amiamo io mi presento velocemente ecco perché è giusto che anch'io mi presenti io mi occupo di arte contemporanea da ormai un po' di anni sono 30 anni da quando mi sono avvicinata all'arte contemporanea come collezionista e come dico sempre questa grande passione è proprio perché l'arte contemporanea ti permette di vivere con gli artisti, conoscerli andare a visitare i loro studi, capire cosa c'è dietro al lavoro e poi con loro crescere lavorare e produrre le loro opere e per me è stato molto automatico dopo pochi anni, nel 92 ho iniziato a collezionare e pochi anni dopo, nel 95, decisi di costituire la fondazione Sandretto Rere Baudengo perché? Perché mi rendevo conto che in Italia eravamo molto in ritardo nei confronti dell'arte contemporanea in Italia c'era ancora molto da fare poco spazio per gli artisti e il mio desiderio era proprio quello invece di portare l'arte ovviamente di sostenere gli artisti e le artiste ma anche proprio di portare l'arte tra la gente ed è così che nel 95 nasce l'istituzione, ovviamente un'istituzione no profit ma subito io sento il desiderio di avere una sede un luogo e mi è sembrato molto naturale immaginare come luogo il palazzo Rere Baudengo il palazzo della famiglia di mio marito a Guarene a Guarene qui, nel Roero perché? Perché ho capito che l'arte contemporanea poteva essere uno strumento importante una strategia per avvicinare all'arte contemporanea sempre più persone ma ho capito che quel piccolo paesino del Roero era il posto giusto proprio per mettere Guarene, il Roero, le Langhe in una mappa degli itinerari internazionali era una scommessa perché ovviamente vi parlo del 1997 non era ancora i ceretto c'erano già e lavoravano già benissimo ma non erano ancora tante le famiglie o le persone che credevano nell'arte contemporanea però appunto era una scommessa che a distanza oggi di un po' di anni posso dire è stata una scommessa vincente è certamente molto più facile io ho una sede della fondazione a Torino ma devo dire che l'attenzione il desiderio anche degli artisti di venire in questo territorio di mangiare perché poi arte, cibo, vino è un tutt'uno ecco non c'è una mostra che non c'è poi una cena non c'è un evento che non c'è il cocktail dopo non c'è il vino rosso è un tutt'uno e quindi questo posto che è Guarene per me è diventato ovviamente la mia prima sede la sede della fondazione ma un luogo dove negli anni sono nati tanti progetti tanti progetti perché pian piano ho visto che il territorio amava in fondo e anche gli abitanti di Guarene incredibilmente io pensavo sarà molto difficile in un posto dove non c'è l'abitudine all'arte contemporanea e invece non è stato così la dimostrazione devo dire l'ho avuto dal nostro giovane sindaco sindaco ormai da tre anni ma è giovane davvero Simone Manzone quando prima di candidarsi venne da me e mi disse per noi, per la mia generazione la fondazione Sant'Eretto Rebaudengo Palazzo Rebaudengo è come il tartufo e il barolo per barolo e per alba noi siamo cresciuti in questo luogo facendo gli laboratori perché quello che fa l'attività la fondazione Sant'Eretto Rebaudengo fa un'attività educativa non solo quindi di supporto agli artisti e quindi noi vorremmo proprio unire il nome di Guarene all'arte contemporanea ancora di più il sindaco è stato eletto ma soprattutto credo che l'arte ci abbia aiutato in questi anni come sapete c'è stato questo bando pochi mesi fa questo bando era per i borghi del PNR fatto dal Ministero alla Cultura era proprio dedicato ai borghi 15 borghi abbiamo partecipato io dico noi perché per me Guarene insomma è casa ma comunque il comune di Guarene con Pia e con Neviglia hanno partecipato e abbiamo vinto siamo stati fra i 15 borghi in Piemonte che hanno appunto vinto e quindi abbiamo questa possibilità incredibile di fare tanti progetti in questo caso il bando che il nostro progetto si chiama Snodi è proprio nato con questo obiettivo con l'obiettivo soprattutto di ripopolare il paese di riportare la gente occupazione ovviamente attraverso la cultura non solo attraverso anche le attività creative quindi attraverso gli artisti poi ovviamente servono le imprese io lo dico sempre non si vive solo di cultura non possiamo pensare che la cultura risolva tutte le difficoltà di questo modo però la cultura è fondamentale la cultura può essere davvero può davvero fare la differenza e io lo vedo lo vedo nel nel palazzo il palazzo Rebaudengo e lo vedo con i progetti che stiamo cercando di portare avanti sul territorio per esempio io credo che sia molto importante al di là di spazi musei e luoghi per portare sempre più gente italiana internazionale ma anche per dare un senso alle persone e dare a loro un modo di avvicinarsi all'arte contemporanea io credo che sia molto importante invitare gli artisti farli produrre nuove opere realizzare nuove sculture nuove opere e poi installarle sul territorio e quindi farle diventare parte del territorio ed è per questo lo dico guardando Valerio Berruti perché insieme su questo ne abbiamo molto parlato e anche con Elisa Giordano abbiamo proprio lavorato e qui devo ringraziare lei presidente e qui devo ringraziare Natiele perché grazie e anche da qualche parte c'era anche primo visto Mauro Carbone ecco devo ringraziarvi perché se questo progetto di cui ancora parlo poi mi taccio è stato un progetto nel quale noi crediamo molto si chiama Prospettive è un progetto grazie a Alcotra è un progetto che ci permette di portare degli artisti sul territorio artisti che produrranno delle opere artisti come l'opera che vedremo fra poco di Berruti che fa finta di non sentire ma anche come la sua opera che vedremo fra poco ad Alba artisti che vengono sul territorio producono opere le producono lavorando con le aziende locali le fonderie e gli artigiani le producono dialogando con i bambini con le scuole con i ragazzi più grandi parlando anche con le persone anziane quindi creando davvero un dialogo e poi queste opere rimangono rimangono creano un percorso creano un movimento quindi la gente verrà e su questo dobbiamo lavorare molto anche mappare bene tutto quello che c'è fare in modo che chi viene abbia gli strumenti per potersi muovere su questo territorio visitarlo sapere dove andare a vedere opere interessanti progetti interessanti e questo io credo davvero che sia un modo per portare un turismo e soprattutto un turismo anche alto un turismo esatto più alto io lo vedo noi abbiamo nel 2019 come fondazione abbiamo deciso avevamo una parte di una collina a un chilometro da Palazzo Rere Baudengo quindi in Guarena San Licerio e abbiamo iniziato su questa collina invitare degli artisti a realizzare delle opere come hanno fatto i ceretto con la loro cappella ecco e devo dire che è impressionante vedere la quantità di persone che sono attratte dall'idea di venire in un giardino in un parco in un luogo e lì vedere opere d'arte poi diamo ovviamente la possibilità loro attraverso QR Code attraverso quindi sia in modo audio che in modo che leggendo possano quindi anche capire il senso di queste opere cosa l'artista ha voluto raccontare attraverso quest'opera ecco vedo un grande interesse vedo una grande attenzione da parte del pubblico non solo italiano ma anche internazionale quindi io credo che siamo sulla strada davvero giusta che la strada è questa dobbiamo sempre più far sistema sempre più insieme lavorare e per questo il lavoro della SIELE è molto importante perché potete veramente aiutarci e continuare a crescere in questa direzione ma questa è la strada giusta questo è il modo se vogliamo avere un turismo più alto ma un turismo tutti i turisti il turismo è interessante per noi quindi se vogliamo però differenziare avere turisti anche stranieri e intenditori che vengono ovviamente vedo io d'Artissima che a novembre ma non vi dico quanti collezionisti vengono si fermano in fiera poche ore ma poi hanno dall'anno prima già prenotato il ristorante l'hotel e vengono e stanno qua e poi con il loro trolley pieno di tartufi tornano nel mondo quindi ecco noi dobbiamo puntare a questo e io mi sento di poter dire che la strada è questa e della strada giusta e sono convinta che tutti insieme dobbiamo sinergicamente lavorare insieme ma possiamo davvero continuare ad essere diventare continuare ad essere un luogo di riferimento per il nostro paese soprattutto una bandierina nella mappa internazionale una bandierina ben localizzata e ben esistente ecco quindi credo che questo sia molto importante grazie mi fermo qua grazie grazie Patrizia avete parlato di bellezza e la bellezza e la ricchezza del nostro paese che è bellissimo di una bellezza incessante ma c'è una bellezza oltre la bellezza e la bellezza eccezionale che ha ricevuto il bacio dell'UNESCO e quindi parliamo con Bruno Bertero di questo tesoro che tocca a lui adesso amministrare beh sì tre parentesi anche in maniera immanitata perché io ancora non sono arrivato e ho già tutta una serie di elementi che sono elementi straordinari vengo però da una regione attualmente sono ancora il direttore marketing della regione Friuli Venezia Giulia dove sul tema patrimonio UNESCO insomma qualcosa abbiamo lavorato ma visto che l'assistente questo ero anche molto preoccupato perché si parlava di bellezza e nella mia presentazione non c'entra molto la bellezza però devo dire che questo tema del patrimonio UNESCO è un tema assolutamente in linea con quanto è stato detto da chi mi ha preceduto perché perché soprattutto negli ultimi riconoscimenti il tema UNESCO non è vincolato a un singolo attrattore ma al territorio che ospita l'attrattore o i diversi attrattori e questo è un elemento straordinario ed è l'elemento più difficile da attuare parlo ad esempio delle ultime riconoscimenti che come regione Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto che è il tema di Palmanova e di Palmanova e Civitale collegato al sistema Aquileia costruire quel sistema non è un elemento facile soprattutto perché su quei territori mancano gli imprenditori come invece avete sentito in questa narrazione quello che è stato raccontato prima intanto possiamo dirlo non so guardo il genio ministro dire che questo collubio arte cultura e turismo molto probabilmente 15 anni fa non si sarebbe neanche nominato dicevo prima Patrizia sono di Rivoli porto sulle mie spalle la conoscenza del castello di Rivoli quando per la mostra di Elmimuton parlavamo di fare le visite guidate attraverso la città di Rivoli per andare a vedere l'ospedale il campanile le due cose l'allora direttrice diceva no giammai con i miei con i miei visitatori i miei visitatori i vostri visitatori quasi come se turismo e cultura non potessero lavorare insieme ci sono detti una cosa mica da niente in questo momento mica da niente perché se io devo vedere l'organizzazione mondiale del turismo mappa 159 160 tipologie di turismi e qui chi mi ha preceduto l'ha detto in maniera molto chiara sono i turismi proprio in questo senso perché il turismo culturale è un di cui di quelle tipologie di quei segmenti di visitatori che oggi affrontano questo modo nuovo di vedere le destinazioni di fare turismo e guardate la curiosità di questa situazione qui si parla di un sistema che è un sistema già strutturato che anticipa i tempi oggi è normale se voi andate a vedere un po' tutte le linee strategiche rilasciate da Enet rilasciate dall'organizzazione mondiale del turismo si dice guardate che cambieranno i turisti cercheranno il diradamento cercheranno il distanziamento cercheranno le destinazioni non minori meno conosciute e un territorio come questo con il suo riconoscimento patrimonio unesco con le sue attrazioni con i suoi attrattori principali rappresenta esattamente quello che oggi il nuovo turista sta cercando prima sono arrivato un po' prima a questo convegno cercheravo con il proprietario di casa e gli chiedevo come era andata la stagione e lui mi ha raccontato una roba incredibile perché qui la gente viene mi ha appena detto e poi quando arrivano con il giardino portano il cane soprattutto più arrivano da lontano e più hanno delle esigenze guardate che quello lì è un pezzo di una strategia di marketing complessivo e l'ha detto Patrizia nel suo intervento ed era già stato detto prima quando si parla di turismi si parla del meccanismo con il quale noi interpretiamo i bisogni della gente li anticipiamo e forniamo quello che loro stanno cercando non stiamo facendo nient'altro noi stiamo interpretando esattamente quelli che sono i bisogni ora siccome poi devo rientrare a quello che è il tema ok tutto quello che è il modello del riconoscimento delle destinazioni come patrimonio unesco ma ok soprattutto tutto il lavoro che deve essere fatto e qui è già svolto in maniera egregia ma si può migliorare si possono aiutare i nostri operatori a sviluppare modelli di accoglienza profilate per le esigenze facciamo un esempio banale e così esco un po' da questo tema cultura e turismo ma non vado tanto distante se voi volete lavorare con mondo bike dovete far sì che i bikers che vengano su questo territorio trovino i servizi allora mi rivolgo all'esperta e dico quali sono le esigenze dei turisti culturali nel momento il turismo culturale nel momento in cui approccia una destinazione bellissima quest'idea delle residenze per artisti perché lo facciamo tutti perché siamo diventati tutti curiosi questo tema della cultura il tema dell'inogastronomia così straordinariamente rappresentato da un territorio come questo di fatto fa una cosa semplicissima il vento vuol dire che devo smettere smetto togliete il microfono ah in disaccordo su quello che stai dicendo allora ancora però il tema dell'inogastronomia è proprio l'esempio classico di che cosa voglia dire fare turismo oggi la gente il turista nel momento in cui approccia una destinazione ha delle esigenze l'esigenza è quella di comprendere prendere con sé portarsi via delle nozioni delle conoscenze di questo territorio il tema il modello enogastronomico è esattamente questo che cosa fa la gente entra in una cantina e vuole ascoltare chi racconta quel prodotto lì il territorio dove quel prodotto nasce ecco il modello culturale è esattamente questo identico quindi è una produzione poi qualcuno spiegherà meglio di me qual è il concetto che può stare dietro al tema i modelli delle industrie creative ma poi alla fine stiamo parlando esattamente di questo è una produzione a tutti gli effetti stiamo costruendo un prodotto allora per rispondere anche all'esigenza del sindaco certo sicuramente arriverò e arriverò sui territori perché dal mio punto di vista l'idea di management di una destinazione è quello di governare i processi aiutare i territori a sviluppare processi in funzione di che cosa? in funzione di mercati che decidiamo e sui quali vogliamo entrare insieme congiuntamente su quelle che sono le attività è chiaro che un territorio ricco come questo Langhe Monferrato Eroero che rappresenta un unicum dal punto di vista proprio di bandierina come è stata differita sul quale noi andremo a porre l'attenzione e ha come necessità il fatto di diversificare quella che è l'offerta e quindi ogni singolo territorio deve caratterizzarsi per quello che è un prodotto specifico e parlare di prodotto oggi nel mondo turistico è il punto di partenza l'infrastrutturazione dei servizi è sinergica una parola non mi piace ma è finalizzato deve finalizzare deve aiutare a quella che è la costruzione un'offerta che va poi portata nel mondo questo è il compito delle ATL ed è per questo che noi già nell'assemblea dei soci di ieri nell'incontro la stampa che abbiamo fatto questa mattina abbiamo proprio trasferito insieme al presidente che qui è che saluto poi basta non ci vediamo più per un paio di giorni presidente tranquillo però abbiamo proprio trasferito questo concetto la volontà di studiare il territorio ascoltare quelle che sono le esperienze territoriali perché non c'è niente da apportare ci sono semplicemente mercati da decidere insieme congiuntamente mercati sui quali dobbiamo scegliere quali sono le migliori strategie di posizionamento ecco io credo che questo possa essere un momento importante e ribadire assolutamente che questa triade quindi la parte culturale la parte artistica la parte turistica devono lavorare insieme perché ormai è il mercato che richiede questo e siccome chi governa è il turista che poi arriva sui nostri territori il nostro compito è quello di andare in quella direzione che cosa potremmo fare? potremmo sicuramente selezionare ecco io credo che per questa destinazione il tema della selezione del turista quindi scegliere i turisti con i quali operare possa diventare assolutamente strategico mi taccio perché se no qua andiamo a raccogliere tutto quello che c'è ecco grazie grazie vorrei sentire queste parole a Venezia ma è un discorso che ci porterebbe lontano lei diceva già ministro e io lì per lì non ho pensato a ex ministro ma ho pensato già si sa che dopo il 26 lui torna perché è stato Massimo Brai un grande diciamo un po' un grande ministro della cultura possiamo possiamo ricordare un grande ministro della cultura e però per fortuna ancora un condottiero della cultura italiana come responsabile dell'enciclopedia Tre Cani non aggiungo altro a lei la parola al microfono grazie senza limiti di tempo e non preoccupiamoci del vento ovviamente grazie anzitutto alla SITAC al presidente al direttore della della fondazione paese ovviamente il tema è non solo attuale è un po' di anni che è attuale mi ha colpito nelle parole di Roberta se posso che ha iniziato dicendo che cultura e arte si chiedeva ma perché questa questa vicinanza quale importanza può avere io ahimè sono sempre credo che faccia bene a tutti noi al paese se noi non perdiamo la memoria è qualcosa che rischiamo di fare più o meno ogni giorno il mondo digitale è qualcosa che facilita la perdita della memoria ma è inutile che ci giriamo intorno questa è la contemporaneità quando Enrico Letta mi scelse io non sapevo veramente per nulla che avrei fatto il ministro andavo sul lungotevere con la mia panda e alla radio ascoltavo i ministri e quindi scoprì che sarei stato ministro della cultura e del turismo anzitutto quella è una scelta molto forte e seguiva delle indicazioni europee cioè i paesi a vocazione culturale è bene che quei ministeri stiano insieme lo dico perché oggi quei ministeri non stanno insieme scusate ma mi piace molto immaginarlo questo paese ma so anche stare molto con i piedi per terra questo mi viene da Treccani che da cento anni non è un'istituzione culturale pubblica ma è un'impresa del paese che deve fare un fatturato e vivere se no non mangia secondo tema quando io arrivo al ministero non vi dico la cifra del suo bilancio ma era davvero quasi una vergogna perché noi venivamo da anni e anni per cui il paese andava in giro dicendo che con la cultura non si mangiava quindi inventatevi tutto ma non pensate che noi daremo più soldi a quel ministero diciamo che con Enrico Letta io davvero non lo conoscevo lo conoscevo poco era venuto qualche volta in Treccani a qualche convegno però devo dire ho lavorato molto bene ma soprattutto grazie a lui e a un grandissimo ministro dell'economia che era Saccomanni che purtroppo non c'è più che veniva da Banca d'Italia e portammo credo il bilancio del ministero ad aumentarlo di circa il 40% non è mai credo successo nella storia di questo paese e mi viene spesso da pensare perché l'imprenditoria italiana ha scoperto la cultura Patrizia io non vorrei che fosse solo un fenomeno di marketing con tutto il rispetto no lo dico perché sento molto parlare di marketing faccio non sono per niente contrario perché voi immaginate oggi Treccani devo dire fatichiamo a far capire tutto quello che facciamo forse troppo però ancora riusciamo a togliere con difficoltà dalla testa degli italiani che facciamo l'enciclopedia per noi il 10% è il fatturato con i volumi d'arte facciamo circa il 30% però per esempio questo paese non produce più una carta bella lo dico perché se io mi metto a fare solo marketing in questo paese non ho le infrastrutture alle spalle vale per il turismo questo paese lo sto perdendo io compro l'ultima carta buona fatta in Europa che guarda caso è fatta in Germania era un grandissimo vanto del paese per fare una carta ma potrei andare avanti chi sa stampare se Patrizia mi chiedesse di stampare i libri beh io credo che lei difficilmente oggi li stampi se non in quadricromia a quattro colori noi eravamo un paese che stampavamo sino a 16 colori e chi faceva questo univa quell'artigianato all'innovazione tecnologica che ci veniva invidiata da tutto il mondo non esiste più nulla non sono pessimista giuro sono molto ottimista ma è bene fotografarlo il paese così pure se un libro deve essere legato bene ormai fa tutto una macchina che probabilmente sarà o cinese o giapponese quelle tedesche ormai faticano a tenere il mercato e un'altra parte di quei mestieri sta scomparendo e turismo e cultura io credo che andrebbe fatta un'accurata riflessione allora vado a Bruxelles con la ministra francese che era la Philippe T perché qualcuno in Italia immaginava vi ricorderete che abbiamo tutti discusso di quel grandissimo progetto internazionale che gli americani volevano molto per cui avremmo dovuto globalizzare tutti gli aspetti del commercio il TTIP era una realtà che stavano votando a Bruxelles in Italia immaginavamo di portarci dentro anche la cultura io non ho giuro nessun merito forse di più l'ambasciatore e approfitto per salutare un grande ambasciatore che è Giuseppe Scognamiglio che è qui con noi il nostro ambasciatore a Bruxelles e il ministro non abbia paura io la prima volta che entravo a Bruxelles noi ponemmo l'eccezione culturale con la Francia quindi dicemmo la cultura non può essere solo un fenomeno commerciale e di marketing se non avessimo fatto questo oggi forse non saremmo qui a parlare delle langhe parleremmo di come dice un grande studioso francese De Bo un sottoprodotto di merce quindi farei attenzione perché non è passato un secolo da quando ci sono stati questi pericoli sono passati otto anni sette anni e allora io credo che ci voglia ci vogliano delle scelte molto chiare il turismo fa più o meno il 10% del PIL globale occupa circa 300 milioni di persone noi in Italia abbiamo un serio problema di lavoro dicevo a colazione che a Londra ci sono 500 mila italiani credo che sia la quarta o la quinta città italiana ormai ma guardate che soltanto 2.000 stanno nelle buone università 498.000 fanno camerieri o lavorano negli alberghi noi non riusciamo a tenerli e anche qui che bisogna fare beh anzitutto semplificare una burocrazia che fa secondo me spaventare sicuramente capire che credo che sia davvero una delle pochissime cose che restano nel paese per uno sviluppo guardate che non siamo competitivi più o meno in nulla più noi quando vorrei ricordare al caro amico bravissima persona che il 96% del turismo si muove su quattro portali 96% e io da ministro sono andato a visitare booking in Olanda e cercavo anche di fare come dire di far presente che potevamo in Italia sviluppare una nostra filiera digitale perché ad esempio al Kessler a Trento ci sono ragazze e ragazzi straordinari che fanno questo ma nessuno ha creduto in un progetto del genere e allora secondo me questa è un'esperienza che conosco bene ho anche seguito un po' la candidatura mi sembra che sia un'esperienza molto utile per capire che una parte del turismo deve essere un turismo di qualità sicuramente come diceva anche Patrizia e Roberta potremmo addirittura selezionare però guardate che il paese ha bisogno di molto 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 altro nel turismo ha bisogno che se io ancora oggi devo andare alle Canarie credo che della Germania c'è circa 14 viaggi al giorno se vado in Sicilia conita fatico ma ce ne sono due più o meno questo è il tema per esempio il tema della famosa compagnia di bandiera è un disastro come lo si vuol chiamare tutte le risorse che abbiamo gettato non siamo stati capaci di immaginare qualcosa la Puglia che un po' conosco anche rispetto al turismo per esempio ha fatto un buon lavoro sulle low cost è costato moltissimo ma veramente moltissimo e gli imprenditori come dire nel momento in cui sono venuti meno i fondi verso alcune compagnie giustamente hanno fatto capire che che è possibile che nei prossimi anni ci sarà una contrazione del turismo allora prima cosa una consapevolezza della centralità del turismo per il futuro del paese secondo secondo me ci vuole oltre che il legame turismo cultura turismo beni culturali è stato giustamente detto questo paese è stracolmo di quelli che si chiamano i beni culturali secondari ma è un termine che io già cambierei li chiamerei nascosti che dobbiamo svelare scoprire qui siamo ospitati in uno di questi straordinari beni culturali e due alla consapevolezza che probabilmente ci vuole una cultura del turismo per esempio la formazione in Treccani uno dei settori che abbiamo aperto su cui lavoriamo di più è proprio la formazione abbiamo tre start up una è con una bravissima donna che lavorava al sole 24 ore anche qui stiamo vendendo tutto comprese le università digitali sono quasi tutte comprate o stanno a essere comprate da fondi stranieri io non dico che ci abbia nulla in contrario potrebbe anche essere una piattaforma di snodo l'Italia tra vari paesi però non c'è più il paese c'è qualcos'altro dicevo una 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 di queste start up lavorerà su beni culturali su turismo culturale e quindi sulle professioni e su enogastronomia abbiamo fatto un bel accordo raccontavo prima con questa fondazione che lega i consorsi italiani DOP e IGP quella è una realtà straordinaria devo dire mi ha colpito sono 8000 piccole aziende che davvero non solo fanno sistema ma tengono in piedi un pezzo dell'Italia la seconda start up è rivolta a quello che è un passaggio importante nel paese il PNRR lo prevede e spero che si investa che è l'orientamento cioè i ragazzi negli ultimi due anni di scuola devono essere orientati cioè l'esperienza scuola-lavoro ha funzionato poco può essere una buona idea ma ha funzionato poco per fortuna c'è questa buona intuizione del PNRR dell'orientamento però anche lì noi devo dire anche la presidenza del consiglio ci ha spinto a interessarci ne abbiamo fatto con McKinsey un buon lavoro guardate che il 94% delle ragazze e dei ragazzi se li vogliamo far lavorare in Italia di fronte vogliono avere piattaforme di innovazione tecnologica all'altezza di quelle che conoscono negli altri paesi ora noi grazie anche all'aiuto di Cassa Depositi e Prestiti stiamo provando a migliorare questa piattaforma ma vi assicuro che avere come dire la possibilità di dare servizi da un ministero e ho fatto il ministro se fossi un imprenditore e basta ti scoraggia capisco perché Google Scholar fatichi ad arrivare in Italia però questo è un problema è un altro problema quindi grandi piattaforme di innovazione tecnologica e veramente grandissima semplificazione grandissima facilitazione insomma l'imprenditore credo proprio per chi governerà dovrà essere visto davvero come il nostro migliore alleato per provare a dare una chance a questo paese ancora una cosa Bauman grandissimo pensatore ha coniato questa questa bella parola che è glocalizzazione tra l'altro aveva scritto un pezzo per tre cani sono due grandi autori che abbiamo avuto il privilegio di avere per primo in tre cani uno è Auger che ci ha spiegato che cos'è un non luogo e anche qui è un problema culturale la famiglia italiana il fine settimana non viene più qui io parlo di una famiglia media ovviamente ma vanno nei centri commerciali scusate e va lì e Auger li definisce i non luoghi ora tutto questo io mi chiedo ovviamente perché sia successo ricordiamo tutti Gombrich questo grandissimo storico dell'arte che faceva questo gioco secondo me meraviglioso alla National Gallery andava con il suo amico Panowski e diceva io riconosco tutti i turisti italiani 50 anni fa e c'è lì indovinava e quello gli chiedeva e come fai e lui diceva perché loro all'interno nel DNA hanno la cultura hanno il senso del bello il senso dei luoghi ora questo è un po' scomparso e allora come dire da dove iniziare Patrizia lo ha intuito dalle scuole non c'è dubbio noi dobbiamo portare tutto quello che ho ascoltato giustamente nelle scuole noi dobbiamo spiegare che cos'è appunto un'opera d'arte che cos'è l'arte contemporanea che cos'è questo linguaggio straordinario dell'arte contemporanea la terza piccola start up è sulla lingua italiana nel mondo ci sono 96 milioni di persone che vogliono imparare l'italiano noi abbiamo ancora un sistema per cui immaginiamo che debbano venire in un'università per stranieri nel 2022 ora ho conosciuto uno straordinario imprenditore italiano perché poi in questo siamo i più bravi del mondo che è stato molti anni nella Silicon Valley e ha credo il più importante motore di ricerca per tradurre che ci sia nel mondo translated e con lui abbiamo fatto questa piccola società che vorrebbe creare una piattaforma che gioca e utilizza molto il gioco quindi la gamification per fare questo perché ancora una volta le nuove generazioni possano giocando imparare una lingua nel settecento l'italiano veniva parlato grazie alla lirica e questa è un'altra attenzione che dovremmo avere primi di agosto un po' per misurare queste start up a una delle tre ho fatto organizzare una scuola di musica e sono arrivati un gruppo di ragazzi coreani straordinaria esperienza credetemi la cosa che mi ha proprio pugnalato è che loro mi hanno detto ma le migliori scuole ormai sono in Germania negli Stati Uniti noi abbiamo i più grandi teatri di lirica del mondo nessuno ha quel numero di teatri di lirica e allora qui l'altro consiglio è fare sistema in questo paese che giuro è la cosa più difficile e allora e veramente concludo accogliendo questo invito e conoscendo abbastanza questo territorio perché ci sono tornato più volte e anche il vostro animo è laborioso silenzioso insomma tutte quelle qualità che io apprezzo in noi italiani forse potrebbe essere davvero un bel esempio non manca davvero nulla perché c'è stata una buona valorizzazione di due eccellenze che sono il vino il tartufo anche il cibo guardate che questa è la cosa che mi fa proprio impazzire io passo alcuni giorni pochi 12 di vacanze non faccio mai molte vacanze insomma che io debba mangiare in una regione del mezzogiorno i cibi che mangio a Milano mi fa irritare è lì perché c'è ancora un senso di vergogna rispetto al cibo locale che dobbiamo recuperare ma anche questa è cultura è formazione quando nasceranno delle buone scuole di formazione sul turismo è quello che appunto ci vorrebbe in questo momento e quindi sono molto ottimista perché mi sembra che ci sia un grande fermento nel mondo privato in Puglia devo dire mi ha molto colpito anche nel periodo della pandemia c'è davvero con alti e bassi come sempre ma ci sono zone di eccellenza ci sono c'è anche come dire questa capacità di accogliere degli imprenditori che vengono da Germania e Inghilterra che stanno investendo con Carlo che è qui presente può testimoniare quanta difficoltà un gruppo solidissimo insomma in Puglia ha faticato ad aprire eppure forse è uno dei gruppi migliori che ci sono nel mondo insomma c'è una strada da fare penso realmente che si è intuito che culture e turismo dovranno sempre stare vicine c'è da togliersi tutte le paure di quello che è un concetto di valorizzazione è chiaro che dobbiamo farlo facendo attenzione alla tutela e quindi a non rovinare questo paese in questo i dati ISPRA che è un centro di eccellenza nel mondo ci dicono che invece continuiamo a cementificare senza nessuna attenzione e questo mi dispiace perché gli stranieri lo sanno guardate una cosa che ho capito nelle mie varie esperienze che conoscono le nostre scelte politiche e di sistema molto meglio di noi questo è un errore da non fare e devo dire che in questo per esempio Toscana Marche e Piemonte sono tre ottimi esempi davvero straordinari cioè di come il paesaggio è una straordinaria ricchezza e poi credo appunto che ci voglia molto molto coraggio in momenti come questi e il coraggio dell'imprenditore di questo non ho dubbi ho avuto il piacere di conoscere il dottor Gallo stamattina e beh ascoltarlo ti fa avere fiducia nel paese perché ci ha creduto la prima domanda che gli ho fatto è come erano andati i rapporti con la sovintendenza però lui mi ha detto che nel suo progetto fatto con alcune attenzioni alla fine è riuscito a superare tutti gli ostacoli il rapporto è andato bene ecco quella è un'altra cosa secondo me da studiare però davvero e dappertutto quest'estate sono stato anche qualche giorno per un convegno dove mi erano invitato a Marsala anche lì ci sono bravi imprenditori che stanno lavorando su tutta la filiera del Marsala e come giustamente si diceva sulla storia che dobbiamo raccontare perché questo è un paese strapieno di storie ogni angolo così come un bene culturale ha una storia da raccontare credo che ci voglia una classe dirigente degna di questo nome ecco io quello che mi auguro chiunque governi perché io non ho nessun timore devo dire credo che il paese sia sano sia un paese dotato di tutti gli anticorpi necessari per andare avanti però credo che ci voglia una classe dirigente che provi a mettere insieme una serie di azioni ho provato a dirne alcune ultimissimo appunto abbiamo pubblicato grazie a due grandissimi studiosi uno è Marco Dalberti un grandissimo professore di diritto e l'altro è Franco Amatori forse il più grande studioso di impresa in Italia un libro due volumi sull'impresa italiana ecco l'impresa italiana nonostante tutto quello che è accaduto e nonostante tutte le difficoltà è realmente da un punto di vista proprio di capacità produttiva un'eccellenza nel mondo se questo è vero come quei due volumi dimostrano beh vuol dire che abbiamo davvero la forza per poterlo immaginare differentemente e in positivo questo paese suggerire alla classe politica di ascoltarli un po' di più ecco forse una cosa che davvero manca è questa capacità di un dialogo costruttivo cioè proprio di dare non molti insomma obiettivi di darne alcuni ma di raggiungerli veramente insieme non è un modo non sono per niente buonista andando via dal ministero con Boston Consulting lasciamo un bel progetto sul turismo era un decreto già articolato credo ad esempio che quello è un peccato averlo lasciato nei cassetti ho fatto un grande lavoro devo dire con tutte le organizzazioni però si può fare sicuramente c'è la voglia e l'interesse per farlo e soprattutto secondo me c'è proprio un dovere verso le nuove generazioni è la cosa che più mi preoccupa cioè che con difficoltà altrimenti rimarranno qui in Italia e lo dico perché come dicevano i padri costituenti il nostro primo obbligo è guardare a quelli che saranno i futuri cittadini e grazie grazie a tutti credo che sia il momento di parlare del premio Pavese non è un intervento diverso dal vostro perché il premio Pavese sintetizza alcune delle parole che avete pronunciato per esempio memoria il nostro compito con la nuova versione del premio che da qualche anno amministriamo approfondisce la memoria di Pavese e la specifica questo premio non si limita più come ha fatto in modo eccellente negli anni passati così non celebra la memoria di Pavese non lo ricorda soltanto ma ricorda le sue specificità i suoi mestieri quindi il traduttore il poeta lo scrittore e l'uomo di editoria l'editore l'inventore il direttore di collana questo è la memoria che noi cerchiamo di vivere nel modo più profondo e prestigioso e qui entra in campo un'altra specificità l'eccellenza della giuria cioè c'è un la giuria è composta da uno specialista per tutte queste sezioni che vi ho detto e questi specialisti sono stati scelti per il loro per la loro qualità e il loro prestigio ma anche per formare insieme una giuria che da sola valga la pena di venire qui prescindendo dai premiati c'è il territorio pensate che ai premiati per un'idea di Bruno Celetto si regala si regano 52 bottiglie di muscato in modo che per 52 domeniche siano costretti a pensare a noi ecco questo ho trovato che è stato il pagamento della cappella del Barolo ecco questo questo vi presento vi presento nessun danno anzi un po' di vivacità sveglia le così un po' di teatro fa bene non troppo però e vi dico i nomi di questa giuria eccellente prima di dirvi un po' di suspense i vincitori di quest'anno la giuria è composto da Gian Arturo Ferrari non devo dirvi chi è ma per chi non lo sa è stato un condottiero dell'editoria italiana un uomo di grande prestigio al quale spetta tocca la scelta dell'editore attenzione siamo una giuria discutiamo le proposte ma insomma le proposte vengono fatte da un leader di quel territorio di quella disciplina la traduttrice il traduttore viene scelto viene proposto da Giulia Boringhieri la quale non solo è una traduttrice tra le migliori del nostro paese ma è la figlia di Paolo Boringhieri il quale Paolo Boringhieri era l'assistente l'amico di colui che condivideva la responsabilità accanto a Pavese della collana viola la collana che poi Paolo Boringhieri avrebbe acquistata e sulla quale avrebbe costruito la sua specifica casa editrice specifica per i libri di scienza e che portò alla conoscenza in Italia di Freud per esempio di tutte le opere di Freud e qui veniamo alla lingua italiana anche per rispetto per l'attenzione che noi diamo alla lingua italiana l'assaggistica è affidata al presidente dell'Accademia della Crusca Claudio Marazzini per quanto riguarda la narrativa abbiamo scelto una giovane studiosa che è Chiara Fenoglio non parente ma ciò nonostante eccellente nel suo campo una studiosa di critica della critica letteraria per quanto riguarda la poesia abbiamo Carlo Ossola che è uno con Umberto Eco Claudio Magris e pochi cacciari e pochi altri intellettuali italiani noto nel mondo Ossola e Collège de France per esempio è stato il presidente del comitato delle celebrazioni dantesche è il responsabile dei corsi d'alta cultura della fondazione Cini e potrei continuare con il suo curriculum e poi naturalmente ci siamo teniamoci in fondo Pierluigi Baccanio che rappresenta personalmente Pavese e io che ho una qualche ma ci sono degli ambasciatori giovani quindi va bene allora vi leggo i premiati di quest'anno che sono per la traduzione Norman Gobetti per l'editoria Iperborea per la poesia Gavino Ledda per la saggistica Ludovica Maconi e Mirko Volpi e per la narrativa Michele Mari vi vi leggo solo un brevissimo cenno delle motivazioni che si possono poi leggere credo tra qualche minuto sul sito della fondazione il premio Pavese per la traduzione va a Norman Gobetti la cui ultima fatica e questo è solo un accenno per farvi capire la forza lavoro di quest'uomo e il suo prestigio è la traduzione della mastodontica biografia di Philip Roth pubblicata da Inaudi di cui ormai lui è stato traduttore della maggior parte di libri quindi la sua voce italiana la casa editrice Iperborea è specializzata nella letteratura del nord Europa è stata fondata nell'87 da Emilia Lodigiani oggi affiancata dal figlio Pietro Biancardi è forse Iperborea dice la motivazione l'esempio più netto e perentorio di che cosa sia l'editoria italiana volgarmente detta di nicchia di che cosa cosa possa a quali risultati possa arrivare per quanto riguarda la poesia il premio paese assegnato a Gavino Ledda voi sapete è stato un caso letterario non dimenticato l'autore di Padre Padrone cioè un ragazzo analfabeta la cui intelligenza viene scoperta solo quando finalmente riesce a fare la recluta nel servizio militare e da quella scoperta fatta credo da un umile ufficiale o da un sotto ufficiale arriva alla laurea arriva all'Accademia della Crusca come collaboratore non certo nel gruppo ma dei saggi dei linguisti e arriva al cinema arriva a essere un protagonista della letteratura italiana la motivazione di di ossola dice tra l'altro come Cesare Pavese autore di un poema tellurico e cosmogonico erede nella nella materiata asprezza e sorgiva forza di quegli esseri che hanno un sentore muschioso di bestia e di pipa era un pastore e vedete che cosa ha fatto e vedremo come ha fatto tra l'altro è ancora un personaggio straordinario che varrà la pena di avere qui con noi e di riportare a una certa notorietà che credo meriti ancora per la saggistica avevamo detto Ludovica Maconi e Mirko Volpi autore di un volume edito da Carocci che si intitola Antichi documenti dei volgari italiani i più antichi segni affioranti sopravvissuti quasi per caso di una lingua destinata a diventare grande per la narrativa il vincitore di quest'anno è Michele Mari maestro di una lingua in cui tutto è possibile di una letteratura la cui essenza è la mescolanza tra ironia e fantascientifico horror e grottesco gusto per la scrittura e per la rielaborazione memoriale mimesi e pastiche narrazione e saggio credo facciamo un applauso anche a coloro che hanno consentito questa scelta l'invito ovviamente per tutti voi al premio Pavese e quando saranno le due giornate a esso dedicate però se guardo il sindaco se ci lasci ancora qualche minuto io credo avendo qui davanti delle personalità chiedere a loro se vogliono intervenire dire qualcosa commentare quello che è stato detto visto che anche il ministro ha evocato dei nomi c'è qualcuno che si alza che alza la mano o chiedo al ministro giuseppe giuseppe scognemiglio probabilmente è testimone di una grandissima scommessa che l'italia deve fare che potrebbe far benissimo al turismo che è il fatto che candidiamo appunto stiamo costruendo una candidatura intorno a Expo e lui è il responsabile di questa sfida è una sfida che ha mille che forse vale la pena ascoltarlo grazie Massimo grazie a voi tutti di questa interessantissima serata ho ascoltato con grande interesse la la passione che avete trasmesso diciamo in questa avventura di Expo che è un'avventura non solo di Roma ma è un'avventura del sistema paese e io su questo insisto molto anche nel dialogo con le istituzioni a parlare con il governo non solo con il comune di Roma e vorrei anche coinvolgere altri territori perché il titolo che abbiamo scelto per questa avventura è il rapporto tra persone e territori che è profondamente cambiato dopo la crisi finanziaria dopo il covid questa pandemia ci ha fatto capire che forse le grandi città verticali non sono più un luogo adatto a noi non sono più un luogo adatto a interpretare i nostri bisogni le nostre esigenze quindi vogliamo offrire questa piattaforma perché questo ormai sono gli Expo non sono più esibizioni di tecnologia di ultima generazione ma sono momenti nei quali il mondo si riunisce per dibattere e trovare soluzioni alle grandi sfide che abbiamo davanti a noi che sono sfide politiche economiche culturali quindi le cose che avete detto potrebbero tutte essere parte della nostra sfida la mia sfida iniziale è stata proprio prendere a bordo professionisti di chiara fama non solo romani e questo convincere le istituzioni romane che professionisti non romani erano fondamentali la nostra archistar attorno alla quale abbiamo costruito il progetto è Carlo Ratti che è delle vostre parti diciamo non è certo e lì è stato il primo momento di frizione in cui ho dovuto spiegare che ci sono anche architetti bravi fuori dal raccordo anulare però ecco in questa sfida globale io oggi sono venuto qui anche per vedere un territorio che ammetto la mia ignoranza conoscevo pochissimo grazie all'invito di Carlo e grazie anche all'idea che ho sentito comincia a muoversi qui da questi territori di candidarvi a capitale della cultura con giusto con giusta aspirazione io credo che uno e noi abbiamo fatto gli stati generali di Expo a Roma in luglio e in quell'occasione abbiamo creato sei poli diversi del non profit delle imprese della cultura dei media in sei quartieri diversi della città movimentando anche i quartieri più periferici perché questa è l'operazione da fare movimentare tutti dal basso vogliamo ripetere i stati generali a luglio dell'anno prossimo in questo caso invece vorrei dieci territori diversi del paese proprio per realizzare questa operazione di coinvolgimento dell'intero paese e magari uno di questi territori potrebbe essere questo come viatico per una candidatura ideale che potremmo avere qui poi nel 2026 grazie auguri bravissimi grazie grazie ambasciatore loro hanno volete dire qualcosa ancora una piccola cosa che mi fa piacere è che una nostra mostra per noi molto importante dello scorso anno qui a Guarene una mostra dove i curatori erano tutti americani o inglesi quindi come dire non curatori italiani e quei curatori hanno deciso di dare come titolo a questa mostra prima che il gallo canti perché hanno ritenuto che in questi due racconti ci fossero tutti i temi per poter oggi raccontare l'arte contemporanea si è stata una cosa molto bella io sono anche rimasta stupita da questa loro proposta ho detto no Pavese perché Pavese è davvero ma non devo dirlo a voi ma veramente è amato è amato moltissimo ed amato moltissimo da curatori da artisti perché fra le altre cose anche uno di questi curatori era anche un artista e hanno voluto appunto chiamare il titolo della mostra era prima che il gallo canti ed è proprio partito dal senso di isolamento dal senso di quello che è una situazione che stiamo vivendo in questi anni e così abbiamo questa mostra è partita dalla sede di Palazzo Nermaudengo e si è diffusa in tutto il paese di Guarene e quindi mi piace questo ecco raccontarlo e dirlo proprio perché non c'è bisogno ma comunque è stato un grandissimo un grandissimo artista autore scrittore e riconosciuto in tutto il mondo e quindi vi ringrazio per quello che fate per far conoscere ancora di più anche se non c'è bisogno il nome di Cesare Pavese nel mondo grazie grazie Bruno Bertrero no non ho grandi non ho altre cose da aggiungere ci sono una serie di osservazioni però che sono state stimolate e che sono fondamentali proprio questa mattina nella presentazione abbiamo parlato molto di questo tema della formazione ci tengo e su quello voglio riprendere intanto il tema di questo marketing digitale che abbiamo lasciato alle porte è proprio perché il tema vero oggi è quello di avere una capacità di trasmettere quella che è la nostra storia e la nostra eredità e io mi dispero nel momento in cui nei punti di informazione e accoglienza turistica non si trova neanche più materiale cartaceo quindi questo effettivamente è uno dei problemi principali mentre quello diventa un oggetto iconico con il quale il turista porta a casa un ricordo e su quel ricordo costruisce poi quello che è il pensiero quello che è la fase di desiderio di ritornare verso quella destinazione quindi ci sono tutta una serie di elementi che sono stati stimolati ma ne voglio riprendere uno in particolare che è il tema della formazione si parlava di questi residenti italiani all'estero a Londra io uno dei miei figli è a Londra e nel periodo del lockdown faceva due lavori come cameriere questo era il suo mestiere e lui non ha nessuna intenzione di ritornare qua ma proprio nessuna pur avendo una competenza una capacità perché là viene trattato in una maniera totalmente diversa anche solo proprio dal punto di vista di retribuzione durante il lockdown aveva due indennità non una perché faceva due mestieri e quello è stato il suo meccanismo mentale quindi questo tema del personale che non è un tema solo italiano non è un tema solo italiano ma ormai sta diventando un tema mondiale quello dal punto di vista delle competenze è un tema sul quale noi dovremmo riflettere moltissimo è stato detto in maniera molto esplicita la formazione cioè il tema della formazione dal punto di vista di upskill dei nostri dipendenti impegnati che molto probabilmente non seguono corsi da formazione da anni ma il tema dei reskill cioè come reinderezzare tutta una serie di operatori che oggi hanno una necessità per presentarsi al mondo turistico al mondo culturale o comunque al mondo del lavoro con delle competenze che purtroppo la scuola non trasferisce concordo pienamente noi l'alternanza scuola-lavoro è stato un tema difficilissimo da trattare però nel momento in cui voi iniziate a lavorare con gli istituti di formazione e i grandi progetti di formazione ci sono io ad esempio seguo dei master lo faccio così per attività perché mi viene l'occasione penso al master a Napoli dove la Maria Pina Trunfio fa un lavoro egregio con tutto il personale del sud penso all'Erica Lemmi di Pisa che all'interno di quel percorso universitario costruisce degli elementi strategici di gestione del turismo sportivo ne fa una scelta ne fa una segmentazione lì nascono dei professionisti che sono poi dei professionisti che il mondo del lavoro si gioca ma si gioca veramente a rialzo ecco questo è l'obiettivo che noi dobbiamo avere però il tema vero è che l'orientamento che noi facciamo ai nostri ragazzi al termine del periodo di studio diciamo dopo la terza media è forse lì che noi dobbiamo iniziare a dare il vero orientamento perché quando si arriva nel periodo del liceo e quindi sono stati impegnati i cinque anni o mai molte delle attività sono state giocate sono state impegnate molte risorse energetiche dal punto di vista dei nostri ragazzi sono state impegnate e diventa poi difficile reindirizzarsi io ho un lavoro che faccio da ormai sette otto anni da quando sono in Friuli Venezia Giulia io dedico il martedì mattina a fare la formazione ai ragazzi del liceo o perlomeno degli istituti professionali e cerco di dare un'interpretazione a loro di quelli che sono gli esami che si troveranno al termine del quinto anno rapportati alla quotidianità al lavoro che poi dovranno fare è straordinario questo perché ci va prima un'interpretazione autentica di che cosa si sta chiedendo ai ragazzi e poi spiegare che quello che loro stanno facendo poi lo troveranno e lo troveranno nel mondo del lavoro ecco non voglio dilungarmi oltre noi abbiamo toccato prima il tema della formazione ma ringrazio veramente perché apre una possibilità infinita e guardate che al termine di ogni anno e lo sanno bene gli amministratori le uniche risorse che avanzano e sulle quali è facile costruire dei progetti sono le risorse destinate alla formazione perché? perché tutti parlano di formazione poi però bisogna trovare dei metodi dei modelli che siano in grado di permettere ai nostri operatori di fruire di questa formazione c'è una grande voglia un grande bisogno abbiamo necessità però di essere poi efficaci comprendendo quelli che sono i fabbisogni formativi e arrivando nei loro confronti con quello che poi praticamente a loro serve mi sono un po' dilungato ma vi ringrazio per questa precisazione grazie ottimo intervento Roberta Ceretto io sono in difficoltà rispetto a tante cose belle che sono state raccontate adesso e che danno però il via a tante riflessioni innanzitutto pensare di parlare di cultura e di arte contemporanea in un luogo che è molto legato alla letteratura vuol dire che in questi anni si è costruito tanto e obiettivamente il territorio ha lavorato benissimo per mettere la cultura in un ruolo molto centrale e non solo l'enogastronomia che comunque fanno parte di un aspetto fondante e fondamentale anche a livello culturale io lo vedo anche in prima persona obiettivamente con un talento come può essere quello di Kripa che parte delle sue creazioni ormai sono ispirate proprio a delle opere artistiche e lo stesso modo di creare che ha lui in cucina obiettivamente è molto simile all'opera creativa che io vedo degli artisti che sono che transitano e sono transitati presso la nostra la nostra cantina mi fa questo molto piacere mi fa piacere sentire l'entusiasmo con cui il nuovo direttore sta intraprendendo questo nuovo lavoro ereditando un ventennio dove si è costruito tantissimo dove veramente si sono rimboccati tutto il territorio si è rimboccato le maniche e ha saputo creare un sistema perché vent'anni fa probabilmente era impensabile che si potessero associare città come Alba e Santo Stefano Belbo e mettere insieme questi due importanti autori che tanto hanno significato per un territorio che poi alla fine è distante 25 chilometri quindi sono cadute un po' di barriere sono estremamente fiduciosa è vero bisogna fare tanta formazione perché a livello di ristoranti e di cantine abbiamo costruito tanto formando il nostro personale forse bisogna adesso fare formazione proprio sull'accoglienza bisogna però avere l'idea ben chiara che comunque questo è un territorio che non è aperto a tutti perché è un territorio obiettivamente fatto di piccoli borghi per cui ci sono anche delle attenzioni e delle malizie da prendere però si è lavorato bene e questa sera si sono dette belle parole che ne lasciano ben sperare per il futuro grazie massimo pochissime riflessioni le imprese in italia sono 5 milioni e 4 quando io ho letto in quei due volumi questo numero ho pensato che ogni 14 persone c'è un imprenditore guardate che è un dato straordinario veramente basterebbe questo per pensare moltissimo seconda cosa uno dei grandi temi che ho visto in questi anni che si è discusso molto in tre cani è questo che leggiamo ogni giorno delle fake news che interessa anche l'impresa noi abbiamo ospitato due seminari uno della BCE e uno della NATO in tre cani su questo tema perché è un tema che può creare mille problemi nel nostro prossimissimo futuro ecco in questo ancora una volta centrale secondo me è l'investimento in quella che credo sia la più importante infrastruttura del paese che è la scuola a proposito di lingua questo lo dico con orgoglio perché ieri pubblichiamo questo vocabolario di cui oggi forse avete letto sta creando molta discussione è il primo vocabolario in Italia che c'è all'entrata al femminile è stato un grandissimo dibattito in tre cani ci si arriva in questo paese dopo veramente molto tempo io credo che sia il segno di un cambiamento importante cioè se noi rendiamo come dire certifichiamo che ci vuole un'attenzione maggiore alla parità di genere ma non solo come un problema di quote rosa ma veramente come un problema di riconoscimento di questo significato credo che il paese anche nell'impresa possa trarne beneficio poi lo sto dicendo avendo a casa accanto due grandi imprenditrici però credo che sia importante però nello stesso momento l'osservatorio della lingua italiana treccani registra un incremento continuo di quelli che noi chiamiamo forestierismi questo veramente è un'attenzione nella costruzione di questo turismo esperenziale locale che io vorrei suggerire vedo dappertutto termini insomma oggi sono arrivato in un posto e ho visto ho visto bakery e non so che cos'altro ma perché non dobbiamo dire pasticceria o che voglio dire tra l'altro siamo tra le grandi scuole di pasticceria del mondo insieme ai francesi e questo però vi assicuro che è una parte di quella filiera culturale che dovremmo ripensare grazie a tutti l'idea che questo luogo possa essere chiamato location fa orrore bene io mentre chiedo alla sindaca di venire a chiudere questa questo incontro vi voglio però precisare una cosa a proposito di Alba e di Fenoglio la fondazione Pavese è stata la prima istituzione che ha ricordato Fenoglio ha voluto farlo di proposito l'anno prima per annunciare il centenario con una intervista con Lorenzo Mundo che è stato il curatore delle opere di Fenoglio e di Pavese per Inaudi oltre a essere uno studioso tra i maggiori dei due autori quindi per dirvi che cosa noi pensiamo di come deve essere ecco deve essere certo 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 noi quindi di questo siamo consapevoli e orgogliosi io ringrazio chi ha parlato qui e ringrazio l'ambasciatore che ha saputo intervenire e ringrazio tutti voi che avete ascoltato signor sindaco a lei la parola ringrazio tantissimo i nostri i nostri ospiti i nostri relatori per veramente la grande occasione di approfondimento che è stato per noi quindi noi non abbiamo che da imparare e quindi da portare avanti tutto il vostro messaggio e tutto quello che è stato detto che è stato detto questa sera quindi si è parlato veramente di tante occasioni di spunto di riflessione e di crescita su cui noi ci dobbiamo sempre impegnare questo è un territorio meraviglioso un territorio veramente che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti quindi non solo Alba ma tutto il territorio che ne fa parte che lo circonda ma noi abbiamo sempre l'impegno di migliorarci colgo quello che ha detto ieri il presidente Rabino un territorio meraviglioso ma non dobbiamo adagiarci quindi dobbiamo sempre essere assetati affamati di voglia di crescere e di migliorarci sempre di più quindi sicuramente da questa sera è ancora un motivo in più per cercare di migliorarci e di migliorare il nostro territorio quindi vi ringrazio tantissimo per la vostra partecipazione ringrazio tutti voi anche che siete stati presenti questa sera e vi aspettiamo c'è un piccolo momento conviviale assieme e poi questa sera proseguiamo la cena con quest'altro veramente momento per noi molto importante renderemo omaggio al maestro Ezio Bosso oggi e sarebbe stato il suo compleanno e quindi noi lo vogliamo celebrare e festeggiare con questo incontro con questa cena concerto con i suoi musicisti grazie 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 grazie